Avremmo potuto aspettare gli aiuti promessi, ma siamo nati e cresciuti con una cultura del lavoro che ci è stata tramandata dai nostri padri. Per questo ci siamo subito rimboccati le maniche. Con grandi sforzi abbiamo ridato luce alle nostre attività e raccolto i cocci di un vero disastro per il nostro territorio. Per poter dire, siamo ancora qui. Le nostre attività hanno sempre rappresentato nei vari settori quell'eccellenza che ci ha reso famosi nel mondo. Una voce da sola può essere solo un sussurro. Noi oggi abbiamo deciso di unirci per gridare a gran voce, siamo ancora qui. Non chiediamo aiuto, ma vogliamo sensibilizzare tutti i residenti nelle zone vicine e ricordargli che siamo ancora qui. La nostra è un'iniziativa di gruppo pronta a garantire due vantaggi concreti. Una sicura crescita economica per noi, che significherebbe rinaccio per tutta l'area colpita dal sisma e zone limitroche. E un risparmio immediato, acquistando un bene e un servizio dalle aziende che aderiscono. Non ci lasceremo abbattere dalle avversità. Faremo rifiorire l'economia del nostro territorio, anche grazie al vostro aiuto. Perché noi siamo ancora qui. Perché noi siamo ancora qui. Venite a trovarci.